Giovedì mattina Papa Francesca ha ricevuto in udienza il primo ministro di San Vincenzo e Grenadine, Ralph Everard Gonsalves. Nel corso dei colloqui, che si sono svolti in un clima di cordialità, si è fatto riferimento a questioni di interesse comune, quali la difesa della vita e della famiglia, l'educazione e il dialogo interreligioso. Si è fatto scendo poi ad alcune tematiche che interessano i paesi dell'area e alla collaborazione nell'ambito delle organizzazioni regionali.